Siamo con l'assessore alla cultura del Comune di Asso, Imogene Pina, è l'assessorato che organizza anche quest'anno con un ruolo principale questa fiera del libro che si svolge, ripeto, qui nel Salone Consigliare del Palazzo Civico di Asso. Assessore, rispetto alle precedenti edizioni vi sono delle importanti novità che possiamo subito ricordare? Diciamo che abbiamo comunque i patrocini, uno però è variato, abbiamo il patrocino del Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Questi sono patrocini prestigiosi, ci arrivano direttamente da Roma dove sicuramente hanno apprezzato questa iniziativa e ne tengono conto. Quest'anno abbiamo un progetto grafico del signor Francesco Gemelli Bertieri che è il pronipote del potestà Bertieri che aveva iniziato con questa festa del libro nel 1927. Il progetto grafico, ripeto, è del pronipote. Abbiamo utilizzato come inviti un vecchio invito che aveva già utilizzato Bertieri allora ed è rappresentato da un campanile dal quale cadono i libri ed è molto significativo. Poi abbiamo due tesi che riguardano Asso. C'è la tesi della dottoressa Letizia del Nero che ha fatto proprio una tesi di Laura su Raffaello Bertieri e la tipografia del Novecento per cui è in visione. L'altra tesi che riguarda Asso è della dottoressa Francesca Centurini ed è una tesi molto corposa, sono addirittura tre tomi, e parla dell'archivio dell'apertura di Asso dal 1818 al 1862 perché Asso è stato anche sede dell'apertura. Abbiamo l'adesione dalle scuole, anche quest'anno hanno portato moltissimo materiale, sono le scuole primarie di Asso e di Valbrona e le scuole dell'infanzia di Asso, Valbrona, Barni e Sor Romano. Io devo ringraziare per la collaborazione. Abbiamo un piccolo intervento anche dal nostro professor Roberto Nava che non poteva mancare perché ci accompagna sempre in queste avventure. Quest'anno ha fatto una ricerca sulla pubblicità del 1911-1912 di negozi che esistevano ad Asso ed è una pubblicità molto bella che è su quei cartelloni ed è proprio da vedere, è significativa. Mentre per le serate abbiamo la serata inaugurale che verrà coordinata dal signor Cani di Como e verranno presentati due libri Storie e modelli di ricerca, il club alpino operaio di Como e i tempi di lavoro per quanto riguarda il primo a seguire tempi del lavoro, 110 anni di immagine e di storie del territorio comasco. Abbiamo la presenza anche degli autori Giuseppe Vaghi e Luca Fonstituri e Paolo Massimiliano Gagliardi. Ricordiamo che tutto avverrà nel periodo compreso dal 26 maggio al 3 giugno quindi in un arco di tempo piuttosto stretto, breve c'è una serie importante e intensa di appuntamenti. L'appuntamento finale sarà domenica 3 giugno, sempre alle ore 21 e sarà una conversazione col professor Pier Giorgio Mandelli anche lui è un abituai della nostra mostra e ha un titolo accattivante questa conversazione patinando insieme sul ghiaccio però è un tema sorpresa infatti il professor Mandelli mi ha detto di non parlarne diffusamente perché vorrà proprio fare una sorpresa nel senso che affronterà un argomento molto interessante ma lo svelerà solo al momento. Quindi patinando sul ghiaccio è un titolo di comodo? È un titolo che avrete visto anche la locandina è stato ricavato da un dipinto e c'è questa coppia che patina sul ghiaccio però ha un altro significato però non posso svelare. Non può andare oltre. L'ingresso è libero, tutti sono invitati. La domenica 27 e 3 giugno e sabato 2 giugno ci sarà l'orario festivo dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 20 negli altri giorni della settimana l'apertura dalle 16 alle 20 venerdì abbiamo fatto un'innovazione che vogliamo fare una prova sarà aperto come sempre dalle 16 alle 20 però ci sarà anche un'apertura dalle 21 alle 22 e 30 questo grazie ai volontari io devo ringraziare veramente le persone che mi danno una mano anche per l'apertura perché sono ore che si devono passare qui è abbastanza faticoso poi devo ringraziare gli operai che mi hanno dato una mano per posizionare il tutto Paolo Bianconi che è il nostro coordinatore quindi abbiamo posizionato lui ha tenuto tutti i contatti con le case editrici la Vanda Bianconi che per gli addobbi gli ex libri si ha fatto dei segnalibri e poi devo ringraziare anche Manuela Enzo che se non ci fossero stati loro quest'anno io non avrei potuto sistemare tutto questo in questo modo e niente per le scuole avete visto c'è un primo premio della zona di Lecco della Diocesi di Milano per il concorso Presepi ed è stato posizionato l'ha portato la scuola dell'infanzia di Valbrona bene quindi concluiamo ricordando 26 maggio 3 giugno Asso sesta festa del libro salone consigliare del palazzo municipale invito a venire numerosi perché i libri sono in vendita con prezzi scontatissimi però è anche solo interessante venire a visionarli è tutta cultura anche questa siamo con Maria Giulia Manzeni sindaco di Asso siamo all'interno di questa sesta festa del libro che rinnova questo appuntamento culturale molto importante molto significativo e molto profondo che rinnova legami con la storia ma rinnova anche legami con l'attualità e questo è lo spirito che anche quest'anno il Comune di Asso ha assunto l'iniziativa di promuovere e di lanciare questa manifestazione sì esattamente ecco devo dire che già l'assessore Pino Emogene ha spiegato bene la festa tutte le collaborazioni quindi tutti i ringraziamenti che io non sto a ripetere e naturalmente il mio ringraziamento però certamente per lei l'assessore Pino Emogene che tutti gli anni si dà da fare nel organizzare questa festa del libro quest'anno la sesta festa del libro che vi assicuro è compito non indifferente perché c'è tutto un lavoro dietro voi vedete tantissimi libri esposti poi sabato e anche sabato prossimo a chiusura degli incontri quindi un lavoro con le scuole un lavoro di ricerca per cui vale veramente la pena di venire a visitare questa sesta festa del libro anche per così insomma riconoscere tutto il lavoro che l'amministrazione ha fatto e soprattutto l'assessore Pino Emogene che ringrazio veramente ancora e tutti i volontari perché ricordiamo che appunto l'amministrazione ormai con purtroppo questi tempi queste finanziarie che stanno veramente strozzando anche la pubblica amministrazione non può spendere più nulla il comune non può spendere più nulla soprattutto per manifestazioni di questo tipo e quindi è tutto volontariato è tutta ricerca gratuita per esempio il professor Roberto Nava come sempre ogni anno ha fatto una ricerca sulle pubblicità di negozi che c'erano ad Asso e quindi naturalmente un ringraziamento anche a lui certo un collegamento ideale con la storia questa storia molto bella iniziata tanti anni fa col potestà Bertieri che aveva avuto questa intuizione l'intuizione era quella di scrivere libri belli scritti bene per tutti tant'è vero che lui era uno stampatore e ha inventato anche un carattere particolare e il logo di questa festa del libro è un campanile da cui vengono buttati metaforicamente naturalmente dei libri perché? perché vengono donati distribuiti io credo che sia veramente il libro è una cosa veramente preziosa e quando penso ai vandalismi che vediamo in giro anche sul nostro territorio per esempio purtroppo i nostri impianti sportivi sono un po' presi di mira e adesso stiamo prendendo dei provvedimenti anche molto seri io penso che invece una buona lettura un bel libro con dei bei contenuti probabilmente a parte occupare il tempo ma creerebbe dei valori forma questi ragazzi questi giovani che io invito veramente a leggere con una coscienza soprattutto civica differente e quindi l'invito è questa festa aperta a tutti adulti, bambini ma soprattutto anche ai ragazzi quindi vi invito venite guardate leggete tanto leggete i libri state curiosi curiosi veramente di tutto perché il libro è come il pane quotidiano insomma serve per crescere serve per nutrirsi non è una banalità leggendo veramente si cresce e quindi si sviluppa anche un senso civico probabilmente diverso io credo che noi abbiamo un paese bellissimo stiamo cercando di renderlo ancora migliore con tutte le cose che abbiamo fatto l'acquisto della cascata della Valategna questa rotonda e tutte le opere che abbiamo fatto fino adesso cerchiamo tutti insieme veramente di conservarlo questo è un appello che faccio sempre e mi riservo di farlo anche oggi teniamolo pulito teniamolo ordinato conserviamolo siamo tutti quanti orgogliosi di essere assesi e quindi insieme con un grande senso civico custodiamo ciò che è nostro e quindi partecipare a queste manifestazioni leggere libri e fare ricevere della cultura è anche questo un pezzetto di partecipazione a una vita civica molto importante ecco a proposito di curiosità può essere molto interessante affondare un attimo lo sguardo in questa pubblicità dei negozi delle locande di cento anni or sono perché può far capire la ragnatela allora dei negozi di Asso che era un po' il punto di riferimento del fondo valle per tutte le vallate vicine per altri paesi che non erano dotate di queste strutture e anche qui molto in mente il paese è cambiato il comune è cambiato in cento anni e molto notevolmente assolutamente se noi vediamo poi appunto potremo vedere e guardare tutte le targhe vediamo che Asso era veramente popolato da tantissimi negozi ma senza andare così lontano nel tempo io ricordo negli anni 80 anche 90 ma soprattutto 80 un paese veramente pieno di negozi di tutti i tipi le cose cambiano la strada circonvallazione ha ritagliato il paese e con questa rotonda si spera invece con un'entrata più agevole che stiamo facendo e che abbiamo voluto e per la quale abbiamo creduto nonostante tutte le difficoltà e le fatiche si spera che anche il centro storico possa ricominciare a rifiorire è chiaro che le cose sono cambiate e quindi i negozi oggi ce ne sono sono dei bei negozi che offrono della buonissima merce però i tempi sono differenti speriamo che con tutti questi piccoli interventi si possa ritornare ad avere una via centrale rifiorita di negozi perché no se ci crediamo probabilmente lavorando in questo senso in questa direzione sarà possibile ecco quindi vi aspetto tutti alla festa del libro a questa sesta festa del libro veramente numerosi permettetemi di ringraziare per i patrocini molto prestigiosi che sono arrivati da Roma e che anche quest'anno accompagnano la nostra sesta edizione per il patrocino del ministero per i beni e le attività culturali e per la cooperazione e integrazione internazionale il senatore Alessio Butti che è sempre vicino al nostro territorio ci ha fornito questi importanti patrocini quindi grazie a tutti vi aspettiamo numerosi Claudia Borsetto rappresentante dell'istituto comprensivo qui di Asso che è particolarmente quest'anno presente con una serie di iniziative e una serie di lavori a questa rassegna nella sala del Consiglio Comune di Asso possiamo riassumere questa partecipazione? Certo come istituto comprensivo abbiamo partecipato sia come scuola materna scuola primaria e con i nostri elaborati eseguiti durante l'anno da parte dei ragazzi sono lavori sia su cartaceo a livello di costruzione di libretti e di storie ma anche con cartelloni nelle attività di biblioteca e di animazione alla lettura che si fa durante l'anno scolastico nelle nostre ore di scuola in particolare c'è il progetto di emergency tenuto con la biblioteca di Asso e poi abbiamo letture sia di argomento storico geografico con i vari approfondimenti in particolare le leggende del territorio realizzate dalle classi terze e quarte della primaria con delle uscite sul territorio con le guardie Geva di Canzo e il Cai di Asso poi in classe il lavoro più approfondito di storie di leggende e di raccolta di immagini nel corso della rassinia vi saranno dei momenti particolari di incontro di approfondimento di animazione di spiegazione certo noi abbiamo già concordato con la signora Emogene con l'assessore che saremo presenti nel pomeriggio di lunedì e di martedì proprio come visita alla mostra del libro sia per ritrovare e rivedere i propri elaborati bambini ma proprio anche per conoscere le nuove proposte del territorio di libri in vendita ci sono anche argomenti di storia locale di storia patria argomenti importanti per le nuove generazioni fanno parte del nostro del nostro lavoro vengono ripresi a scuola soprattutto ad esempio le feste del 25 aprile il 4 novembre la Shoah come pure diciamo lo scorso anno abbiamo partecipato anche proprio con i nostri lavori proprio perché era il 150esimo nazionale ecco quindi festa nazionale quindi tutto questo influisce la lettura la passione per la lettura ma in modo particolare legata anche al nostro territorio e alle nostre radici ecco un'ultima domanda complessivamente quanti alunni sono stati impegnati in questa ricerca anche in questi lavori in questa preparazione ecco diciamo che qui non c'è solo la scuola materna e la scuola primaria di Asso però ad esempio ci sono elaborati da parte anche delle materne di Barni di Sormano di Valbrona ecco quest'anno è intervenuta anche la scuola primaria di Valbrona le classi quinte la classe quinta con un lavoro dell'insegnante Martina Camminata ha vinto anche un concorso su un discorso di intercultura perché le nostre radici però la nostra storia anche per incontrare gli altri e una raccolta poi di particolare di libri letti come far piacere alla lettura e appassionare i bambini raccontandosi le loro esperienze Fabio Cani di Como coordina questa prima serata qui nel salone consigliare del palazzo municipale di Astro che affronta argomenti importanti e affascinanti come la presentazione di un libro dedicato alla storia del club alpino operaio di Como cos'era cos'è questo club alpino operaio di Como il club alpino operaio di Como ha un'esperienza parallela al più noto generale italiano club alpino che è un gruppo di operai artigiani e borghesi che si riunisce alla fine dell'ottocento sostanzialmente con l'aspirazione di trasformare l'escursionismo e l'alpinismo alpinismo inteso in un senso molto meno sportivo e molto meno agonistico di quello che intendiamo oggi come occasione di socialità è un'esperienza che continua tuttora e quindi è un club assolutamente importante nella storia sociale e culturale di Como che ha attraversato diverse fasi alla fine dell'ottocento nasce negli ambienti del mutualismo della società di mutuo soccorso poi attraversa la nascita del partito socialista poi ovviamente si deve confrontare con l'esperienza del fascismo e viene peraltro commissariato trasformato in un'organizzazione collaterale al regime poi ritrova una vita democratica dopo la liberazione alla fine della seconda guerra mondiale questa storia ultracentenaria può dare dei suggerimenti degli insegnamenti validi anche oggi ma non è questo lo scopo del libro lo scopo del libro è quello di raccontare una storia peraltro il libro si ferma alla fine della seconda guerra mondiale sicuramente una storia così complessa è così ricca ha sicuramente degli insegnamenti da dare intanto credo che la cosa più importante e quella che credo sia più importante anche proprio per gli affiliati al club alpino operaio è proprio quella della capacità di resistere di stare insieme anche attraverso tutta una serie di vicissitudini politiche sociali il libro viene presentato e viene pubblicato dalla casa editrice Nodo Libri di Como ma non sarà il solo libro di questa serata ad Asso in questa fiera del libro perché ve ne sarà un altro parallelo sotto un certo profilo diverso per altri contenuti per altri aspetti di ricerca ma sicuramente molto interessante storia e modelli di ricerca sui tempi del lavoro allora il libro che si intitola Tempi del lavoro è dedicato a 110 anni della Camera del Lavoro di Como ma non è una storia del sindacato Comasco è piuttosto un tentativo di cominciare a ricostruire una storia del lavoro a Como attraverso le immagini quindi c'è per questo che abbiamo intitolato la serata storie e modelli di ricerca perché i due libri per alcuni versi convergono tra l'altro il club alpino operaio nasce alla fine dell'Ottocento la Camera del Lavoro di Como nasce proprio nel 1901 quindi la cosa è abbastanza interessante però per altri aspetti divergono perché i due libri sono costruiti in maniera quasi complementare quello sul club alpino operaio è centrato sul testo ma ha un apparato iconografico piuttosto importante e in gran parte inedito quello invece che parte dal pretesto dei 110 anni della Camera del Lavoro lavora essenzialmente sulle immagini sono quasi 500 immagini per la maggior parte fino adesso sconosciute e però su queste immagini poi vengono costruiti dei testi di accompagnamento anche molto diversi per questo abbiamo pensato di accoppiarli proprio perché presentano due modi diversi ma complementari di fare una storia locale Fabio Cani io ho già detto che lei sarà il moderatore il conduttore della serata vi saranno degli altri ospiti degli altri redatori vi saranno gli autori dei libri vogliamo ricordarli un po' tutti sì allora io coordino questa serata nella misura in cui ho partecipato a entrambe le elaborazioni del libro dei due libri il primo quello sul Club Alpino Operaio è un libro scritto da Giuseppe Vaghi che sarà presente appunto e a cui io ho fornito il supporto diciamo così di editing di redazione viceversa il libro sulla Camera del Lavoro Tempi del Lavoro è costruito da me in prima persona la ricerca iconografica è in buona parte mia ma con la collaborazione di altre due persone che pure dovrebbero essere presenti sabato sera e cioè Paolo Massimiliano Gagliardi e Luca Fosdituri per quello che riguarda i testi